è finita amore mio siamo spacciati la profetessa teono sta uscendo dal palazzo fuggi no no non importa a che serve fuggire no che orrendo fado il tuo sei sopravvissuto a troia solo per morire qui sul nilo non 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 Ebbene Elena, come vedi il tuo sposo Menelao è qui, davanti ai tuoi occhi, senza le sue navi e senza lo spettro della falsa Elena.